Paolo Solimeno, avvocato, si sta occupando insieme anche ad altri legali del ricorso contro l'Italicum. Stamattina è stato depositato proprio a Firenze uno dei 20 circa ricorsi in Italia. Ci può dire, da un punto di vista proprio legale, perché secondo voi questa legge è incostituzionale? Perché viola e comprime il diritto di voto degli elettori. In che senso? Facciamo solo due esempi. Buona parte dei parlamentari saranno nominati, essendoci capilista bloccati. Altro esempio è quello del premio, un premio macroscopico che viene dato al primo turno a chi raggiunge il 40% dei voti. Probabilmente nessuno raggiungerebbe, nell'applicazione di questa legge, il 40%. Si andrebbe al secondo turno e una minoranza, anche esigua minoranza del 25-30%, otterrebbe la maggioranza assoluta, il 55% dei parlamentari. Quella che voi avete intrapreso è un'azione legale senza precedenti in Italia? No, direi che probabilmente è anche una particolarità a livello europeo, perché oltre 50 studi legali si sono spontaneamente messi a disposizione. Ecco, tra l'altro siamo in Toscana, è già pendente presso il Tribunale di Firenze un ricorso contro il Toscanellum, la legge elettorale toscana. Sì, l'elemento comune delle due leggi è sempre quello di non garantire la rappresentanza, cioè di non garantire la proporzionalità fra l'espressione di volontà degli elettori e la composizione degli organi assembleari. Ecco, realisticamente adesso che cosa accade? La vostra speranza è quella che uno dei 20 tribunali a cui è stato fatto ricorso adisca la Corte Costituzionale, ma in che tempi? Nel giro di pochi mesi dovremmo avere le prime udienze, è un procedimento rapido, poi la Corte Costituzionale avrà i suoi tempi, speriamo che sia interpellata.